Ciao ragazzi, in questo video voglio insegnare il nostro software Text-to-Speech. Con questo software possiamo fare qualche testo in audio. Il mio italiano non è molto buono, ma aspetto che è buono per insegnare questo video. Nostro software è un software puente tra Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud e IBM. Voi potete registrare gratis, senza coste, e poi provare con 300 crediti. Una volta che voi sei già registrato, puoi scegliere di tutte le lingue che noi abbiamo qui. Qui abbiamo l'italiano e io vado a insegnare come si ascolta la lingua italiana con questo Cloud Providers. E andiamo primo con Amazon Web Services. Andiamo ad ascoltare. Ciao, puoi usare una qualsiasi delle nostre voci per sintetizzare il tuo testo secondo necessità. E una voce maschile. Ciao, puoi usare una qualsiasi delle nostre voci per sintetizzare il tuo testo secondo necessità. E anche abbiamo di Google Cloud. In Google Cloud la nostra raccomandazione è usare la voce neurale perché queste voci sono migliori con l'uso dell'intelligenza artificiale. E andiamo ad ascoltare una voce femenina. Ciao, puoi usare una qualsiasi delle nostre voci per sintetizzare il tuo testo secondo necessità. Aggiungi ulteriori effetti vocali incorporati per migliorare ulteriormente il tuo discorso e puoi anche usare le voci neurali per far sembrare il tuo discorso come se fosse pronunciato da un essere umano vivo. E una voce maschile. Ciao, puoi usare una qualsiasi delle nostre voci per sintetizzare il tuo testo secondo necessità. Aggiungi ulteriori effetti vocali incorporati per migliorare ulteriormente il tuo discorso e puoi anche usare le voci neurali per far sembrare il tuo discorso come se fosse pronunciato da un essere umano vivo. E andiamo ad ascoltare Microsoft Azure. La nostra prima raccomandazione sono le voci di Microsoft Azure. Noi pensiamo che queste sono una delle migliori voci che sono disponibili. e andiamo ad ascoltare. Ma tu sei italiano e tu, per favore, scrivi nei commenti come che pensa di questa voce. Ciao, puoi usare una qualsiasi delle nostre voci per sintetizzare il tuo testo secondo necessità. Aggiungi ulteriori effetti vocali incorporati per migliorare ulteriormente il tuo discorso e puoi anche usare le voci neurali per far sembrare il tuo discorso come se fosse pronunciato da un essere umano vivo. E adesso una voce maschile. Ciao, puoi usare una qualsiasi delle nostre voci per sintetizzare il tuo testo secondo necessità. Aggiungi ulteriori effetti vocali incorporati per migliorare ulteriormente il tuo discorso e puoi anche usare le voci neurali per far sembrare il tuo discorso come se fosse pronunciato da un essere umano vivo. Ma io penso che anche ha un po' di voce robotica che non è totalmente umana, totalmente normale, ma penso che sì, con il tempo fa migliorare tutti le voci di intelligenza artificiale. E per ultimo ascoltiamo IBM. Ciao, puoi usare una qualsiasi delle nostre voci per sintetizzare il tuo testo secondo necessità. Aggiungi ulteriori effetti vocali incorporati per migliorare ulteriormente il tuo discorso e puoi anche usare le voci neurali per far sembrare il tuo discorso come se fosse pronunciato da un essere umano vivo. E quali pensi che sono i migliori? So, andiamo a provare il text to speech software. È molto facile. Qui possiamo scegliere il progetto. Se noi vogliamo facere molti audio, possiamo qui scegliere il progetto, per esempio per un video, e tutti gli audio che noi vamos a facere vado ad essere qui. E possiamo qui facilmente scrivere il testo. E un'altra raccomandazione è facere direttamente sintetizzare a voce, perché se noi ascoltiamo solamente questo vado a consumire los créditos. sono nostra raccomandazione per avere e per facere il testo. Sono con testo, primo, un po' corto e poi possiamo andare a facere il testo come noi vogliamo, facere un po' largo, un po' lungo, un po' più lungo. E poi possiamo, per usare anche i controlli, se noi vogliamo facere pause, possiamo una pausa qui, di un secondo. Se noi vogliamo facere più corta, poi facciamo punto 5 di secondo, una pausa qui. se la velocità di la voce, noi possiamo cambiare, possiamo facere più rapida e più lenta, piano, piano. E il pitch, normalmente il pitch non fa molto cambios, ma è anche possibile provare. So, facciamo la sintetizzazione. E qui abbiamo la voce, già per fare la descarga o per ascoltare il preview. Io sono Carlos. Io sono messicano. Io ho 32 anni. E quando noi stiamo felici con i risultati, possiamo andare a facere la descarga. È molto facile di utilizzare questo software, ma se vuoi anche stare cercando un'alternativa, anche la nostra raccomandazione è Spiccelo. Con Spiccelo, loro hanno di meno voce disponibile, ma anche loro hanno più, non c'è molto questo del character per utilizzare, ma è più costa, costa circa di 150 dollari per il Spiccelo e Spiccelo Pro. Ma è una raccomandazione buona. Ma per la voce in italiano, con il software di intelligenza artificiale, di subito solo anche ha una voce. Andiamo a ascoltare. Ciao, il mio nome è Valentina. Sono un madrelingua italiano. E anche possiamo qui scrivere. E possiamo ascoltare il preview o facere la voce. E abbiamo qui, per ascoltare. Io sono Valentina. Io sono italiana. Io ho 32 anni. E anche possibile per utilizzare solo, ma è una voce femenina, non ha voce maschile in l'intelligenza artificiale, di solo nel standard. Hai, per esempio, qui Giulio. Andiamo a ascoltare il preview. Ciao, il mio nome è Giulio. Sono un madrelingua italiano. E anche altra. Ciao, mi chiamo Roberto. Sono di madrelingua italiana. Io penso che è molto, molto robotica. e anche Speechelo per il World Wide ha le opzioni di translate, di la traduzione e anche per importare il YouTube. So, è una alternativa anche per usare e una raccomandazione che anche facciamo noi. So, questo fu il nostro software di text-to-speech. Si vuoi, ha domande, alcun commentario. Se il mio italiano, io lo so, non è il migliore italiano del mondo, ma io faccio l'intento. Grazie mille per guardare questo video. Grazie mille per guardare questo video.